Ho pensato tanto, forse pure troppo, dimmi perché Beccani Sciolti è un disco fondamentale per il mio percorso artistico perché arriva dopo anni di scrittura, di consapevolezza, di voglia anche di capire non solo cosa devo fare come musicista che fa pop in Italia, ma anche cosa voglio fare, che cosa voglio lasciare anche al mio pubblico. Le tematiche sono tantissime in questo disco, c'è sempre l'amore, ma è un amore secondo me più diverso, anche a volte più disilluso, o anche più totale, più spudorato ed è un amore anche a 360 gradi. C'è tanta sicuramente politica, in Ghetto Perfetto in Padova può ucciderti più di Milano, ma c'è anche come sempre il rapporto conflittuale tra la provincia e la città d'origine e invece la città in cui si è costretti a spostarsi la metropoli più caotica e è appunto confusionaria. Si tratta del mio primo tour teatrale ed è un'emozione unica per me poter affrontare palchi così prestigiosi. Devo dire che poi raccontare in particolar modo questi dieci anni su dei palchi così belli è molto emozionante perché potrò veramente portare tutte le canzoni molto amate dal pubblico, ma anche portare Canisciolti dal vivo, che è un disco appunto totalmente suonato, quindi di fatto sarà un disco che dal vivo insomma renderà onore e questo tour gli renderà giustizia. È sembrato così strano accettare quella che sono da allontanarmi da me.